Vado? Allora siamo pronti? Welch Corgi Pembroke per il gruppo 1 Per il gruppo 2 Alano Fulvo Gruppo 3 English Toy Terrier Per i Bassotti, Bassotto Standard a pelo lungo Quinto gruppo, Faronaun Per i Segugi, Beagle Cani da ferma, Kurzard Ottavo gruppo, Flat Coated Per la compagnia Maltese E concludiamo con il Borgioi Grazie a tutti 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 Turno dell'English Toy Terrier English Toy Terrier Standard a pelo lungo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti